Hai riscontrato dei problemi sul gioco The Crew 2 riguardo al Microsoft Visual C++ DirectX Runtime oppure direttamente dei file mancanti nel tuo computer che non ti permettono così di avviare il gioco è possibile aggiornare i driver sul nostro computer e aggiungere dei file DLL mancanti come per esempio il vcruntime 140.dll e lmsvcp140.dll ovviamente come funziona? Prima andiamo a scaricare così i file su questo sito qua di Microsoft che ti ho lasciato in descrizione andiamo direttamente su Visual Studio 2015 fino al 2022 ed eccoli qua il per 86 e il per 64 quello che vi consiglio io è di scaricare e installare tutti e tre ma quello che è più funzionante per il tuo computer sono questi due qua per 86 e per 64 quindi io adesso vado a scaricare questo scaricare quest'altro clicco qua sopra clicco anche qua sopra ed eccoli qua tutti e due modifica, installazione, ripristina ovviamente io li tengo già installati quindi non mi resta che fare il ripristino tu puoi direttamente installarli una volta installati riavvia il tuo sistema chiudiamo un attimo qua e passiamo direttamente ai file DLL da aggiungere nel nostro sistema andiamo così a scaricare questo file architettura 64 bit se non ti funziona il 64 bit prova con il 32 bit quindi vado a scaricare il 64 bit vado a scaricare anche l'altro il sito te l'ho lasciato in descrizione quindi qua tu puoi scaricare qualsiasi file DLL che mancano nel tuo computer cerchi qua e basta 64 bit ed eccolo qua una volta fatto ecco qua i nostri due file vado a estrarre così il pacchetto estrae i file sia a tutti e due sia a tutti ed eccoli qua i due file questo lo cancello faccio così una bella copia vado a copiare questi due file e li vado a mettere nel mio sistema questo pc disco local e c scendo fino a giù fino a trovare una volta vabbè vai su windows scendo fino a giù fino a trovare così sistema 32 oppure il sistema 64 li devi mettere in queste due cartelle poi una volta scaricato quindi una volta installato quei driver la e messi dai DLL qua dentro riavvia il computer e riprova ad avviare il gioco The Crew 2 quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao